23 gol e nessuno 0-0 nella quarta DB, cominciamo dalla goleada, Torino, Pescara, 7-0 abbiamo visto il gol di Pacione all'ottavo minuto e al ventitresimo quest'azione personale del brasiliano Miller dà al Torino già il raddoppio. Passano appena due minuti, venticinquesimo da angolo, Rossi realizza il terzo gol e siamo ora al quarantaquattresimo, lungo lancio per Pacione che lascia a scoro il gol dello Jugoslavo, terzo stagionale, 4-0 al termine del primo tempo, nella ripresa, quindicesimo da angolo colpisce di testa Benedetti che fa la torre per Pacione, ottima la girata e i gol in acrobazia di Pacione, doppietta. Ventisesimo rilancio di Benedetti, errore della difesa, c'è una prima parata di Gatta in qualche modo, testa di Policano e 6-0. Al quarantaquattresimo discesa ancora di Policano con cross per Miller e arriva il 7-0, quinto gol stagionale del brasiliano capocannoniere, Torino primo in classifica. Ed ecco Miller.